Sulmona in lutto per la scomparsa del generale Italo Gianmarco, morto questa mattina all'ospedale dell'Annunziata di Sulmona all'età di 84 anni. È stato comandante del 17esimo battaglione Efanteria Acqui, distanza della caserma, Battisti. Sebbene in concedo l'amore per l'esercito è stato sempre nel suo cuore, organizzando con tutta passione e puntualità cerimonie ufficiali. A chiunque riusciva a trasmettere questa sua passione, ricordando lucidamente le sue esperienze in divisa. Esprimono cordoglio il sindaco della città Gianfranco Di Piero e l'amministrazione comunale tutta. Il generale Gianmarco lascia un vivo ricordo della sua fedeltà e del suo amore all'esercito, animati anche dalla passione stancabile per l'organizzazione di cerimonie ufficiali, con l'orgoglio della sua appartenenza all'arma di Efanteria. Il generale Gianmarco lascia la moglie Franca, i figli Fabrizio e Marilia. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria, caliendo Celestial, mentre i funerali si svolgeranno domani, mercoledì 23 novembre alle 14.30, nella Basilica Cattedrale di San Panfilo.